Sono 22 anni che lavoro qua in Saffilo e ho fatto, ricoprendo diverse mansioni, adattandomi sempre anche alle varie situazioni. Come avete avuto la notizia? La notizia l'abbiamo avuta girando messaggi girati dai colleghi, perché l'azienda non ci ha istituzionalmente informato di nulla. L'abbiamo poi dopo approfonditi sui giornali, ma niente di più. Ci ha lasciato una doccia fredda, perché quei 400 che sono usciti a marzo dell'anno scorso, si pensava che la questione fosse chiusa. Invece ci siamo trovati a dover riaffrontare ancora questa situazione, che oggi sembra anche peggiore. Dietro agli striscioni ai comunicati ufficiali delle aziende che annunciano tagli di posti di lavoro, ci sono le storie. Ed è, raccogliendo la preoccupazione dei lavoratori Saffilo, che sia la percezione del dramma umano che sta dietro alla decisione di, testuale, non ritenere più strategico lo stabilimento Saffilo di Longarone. 20 anni di vita non sono solo lavoro, ma anche amicizie, gioie e dolori condivisi. 23 anni, per cui è un bel pezzo della mia vita che lavoro in questo stabilimento e per il quale sono molto preoccupata per la realtà che ci si presenta da qua in avanti. Ma non solo per me, mi preoccupo anche per tutti quei colleghi che comunque sono famiglie, alle spalle hanno dei figli magari anche piccoli, per cui si ritrovano in una realtà di vita non programmata, diciamo, quando tu pensi di avere effettivamente le spalle, tra virgolette, coperte, ti ritrovi che sei in mezzo al nulla, perché va bene posti di lavoro, ma si sa bene che la crisi incombe in ogni settore, per cui si fa anche difficoltà a trovare un ricollocamento in altre industrie. Il vero problema che si pone qui è che parliamo di un'età media leggermente alta, anche perché con le uscite che ci sono state negli ultimi anni, diciamo, l'età media si è alzata, anche perché parliamo di persone che sono troppo giovani per andare in pensione e troppo vecchi per trovare un posto di lavoro. Quindi qui si pone anche un problema di carattere sociale, ecco. La motivazione dello sciopero e coinvolgimento anche, diciamo, di tutto il territorio bellunese e non solo, anche il Comino Dimitrofi è proprio questo, perché qui si pone un problema serio, cioè qui è un dramma proprio. Un dramma che si aggiunge ad altre decisioni che negli ultimi anni hanno penalizzato fortemente quest'area. Per quello che è successo negli ultimi anni, perché se parliamo di quattro anni fa, è stato chiuso lo stabilimento della Safilo, che era a Martignago, poi è stato chiuso lo stabilimento in Slovenia e oggi si vuole chiudere lo stabilimento della Safilo di Loncarone. È chiaro che quando si parla della Safilo si parla anche di Santa Maria di Sala e di Padova, dove sono due stabilimenti. Sicuramente oggi, rispetto alle scelte che sta facendo l'azienda, il rischio riguarda anche quegli stabilimenti lì.